Ciao ragazzi e bentornati, qui il vostro Zoo92 per un nuovo unboxing dedicato al mondo del Digimon Car Game. Oggi però niente bustine, bensì questa. Questa scatola va a contenere il primo Digimon Tamers Evolution Box, un set speciale che Bandai ha realizzato per il mercato giapponese e in simultanea per il mercato occidentale. Infatti all'interno c'è scritto da qualche parte, non mi ricordo dove, le carte saranno contenute in via eccezionale, così scriverò sulla scatola, anche in lingua inglese. È un segno di apertura in realtà importante da parte di Bandai perché, chiariamo una cosa fondamentale, Bandai è una società molto chiusa, molto legata al suo pubblico giapponese che molto spesso tende a non aprire ai mercati occidentali i suoi prodotti perché ha meno senso spendere tanto per esportare poco che non limitarsi al proprio mercato ma vendere tantissimo. Anche per questo Digimon Car Game in prima battuta si era pensato che la situazione potesse essere quella perché ci è voluto tantissimo per rivedere videogiochi dei Digimon in Europa e già comunque i videogiochi sono un tipo di mercato affermato per un mondo come quello di Digimon. Affrontare l'idea di un Digimon Car Game poteva essere pericoloso per Bandai. Poi lo stanno facendo, sta andando benissimo, le carte sono introvabili ma stanno tornando online. Ragazzi continuate a tenere d'occhio i siti perché c'è una nuova ristampa anche ad aprile, e quindi le carte arriveranno. In ogni caso, Tamers Evolution Box, la scatola è direttamente quella giapponese, potete vedere il logo Bandai qui e il logo Cardass qui dietro nonostante sia mezzo coperto dallo scotch. Ho aperto il Brown Box esclusivamente per togliere il mio indirizzo dall'etichetta, ma andiamo a vedere il contenuto che inizia con questo grandissimo storage box che come potete vedere contiene, raffigura i nostri starter, i nostri Digimon prescelti. Allora, stavo cercando un punto per aprirlo qui con un'apertura semifacilitata. Ovviamente dopo cambierò inquadratura per farvi vedere le carte, ma intanto andiamo a vedere il grosso del contenuto. Vabbè, io volevo non aprirlo e non romperlo, ma direi che è destino. Allora, come vi dicevo, la Tamer Box contiene tutti i Digimon prescelti, ma andiamo a vedere cosa contiene invece la scatola al suo interno, partendo da questo, un meraviglioso playmat di Digimon, con tra l'altro la stessa illustrazione che c'è sulla scatola, ma invece che essere semplicemente con i contori in blu è interamente colorata. E' davvero figo, è proprio bello, e farà da sfondo a tutti i nostri unboxing di Digimon da adesso a sempre, compreso quello che faremo tra 3 secondi per quanto riguarda le scatole. Lo appoggio un attimo e vediamo, abbiamo un Memory Goju personalizzato, anche questo molto figo, con tutti i Digimon in 8-bit, con tutte le loro evoluzioni, è molto carino, figo, figo, mi piace. E per finire, un box per le carte che conterrà le carte che andiamo a vedere tra pochissimo, in edizione limitata. Non sono carte nuove, sono tutti alternate artwork di carte che abbiamo già visto. Quindi io direi che ci spostiamo subito, cambiamo inquadratura e vediamo insieme quali carte sono contenute in questa scatola. Allora ragazzi, vi faccio rivedere subito al volo la box in sé con l'artwork molto bello, che lasciamo qui dietro. Qui sotto abbiamo il Playmat, che non sto a ritirarvi su, ma tanto l'immagine davvero è la stessa che avete appena visto in versione colorata. Qui abbiamo il Memory Goju con, da un lato, la linea evolutiva di Gabumon, dall'altra quella di Agumon. E ovviamente, eccoci al fulcro del nostro unboxing, ovvero questo piccolo box. Box molto carino a livello di design, probabilmente non lo userò mai, specialmente perché fino a quando la situazione rimane questa, non ci sarà granché da andare in giro a spostare carte, ma è figo. Abbiamo le bustine protettive, queste sono quelle per i Digimon, mentre dall'altro lato abbiamo le 5 per le Digi-Uova, quindi possiamo coprire un intero mazzo con queste bustine. Abbiamo un separatore all'interno della scatola, e soprattutto abbiamo i due set perfettamente speculari di alternate artwork per le carte. Andiamo a guardare quelle inglesi che partono con Shadow Wing proveniente dal mazzo base 1, quello rosso abbiamo sia Shadow Wing che Gaia Force, le alternate sono bellissime, non solo per gli artwork, questo di Shadow Wing è veramente strepitoso, ma soprattutto per come sono realizzate. Non sono semplicemente delle pellicole applicate sopra, ma vi giuro sono quasi metallizzate, è un effetto che la telecamera non rende, ma che in mano è veramente, veramente meraviglioso. Dicevo, Shadow Wing e Gaia Force per il mazzo rosso, abbiamo Emmer's Park e Cositus Breath per quanto riguarda il mazzo blu, Evans Gate e Evans Charm per il mazzo giallo, mentre direttamente dalla prima espansione arrivano Hornbuster e la terza versione del Flower Cannon. Allora, personalmente avrei preso una carta diversa dal Flower Cannon come ultima alternate, perché ne aveva già avute due versioni e mi sembra un po' eccessivo, ma devo riconoscere una logica in queste otto carte, perché? Perché noi abbiamo otto carte opzione che raffigurano otto Digimon ben precisi, ovvero Wargreymon, Metalgarurmon, Angeuomon, Garudamon, Zudomon, Magnangemon, Hercules Cabuterimon e Litmon. Cosa hanno in comune? Sono tutti Digimon Digi prescelti. Quindi si è fatta una cernita sulla base di quali Digimon utilizzare più che di quali carte. Capisco che a quel punto, se devi scegliere otto carte opzioni che raffigurino otto Digimon di Digi prescelti, Flower Cannon sia una scelta quasi obbligata per creare un artwork figo, come appunto può essere questo qui, che comunque chiariamoci, è veramente bellissimo. Ora, la mia carta preferita, in linea generale, è questa Shadow Wing, che trovo davvero meravigliosa, ma sono tutte stupende e è facile trovare una logica in tutto questo. Ci spostiamo e facciamo un po' di considerazioni finali. Vale la pena di comprare questo set? No. Oggettivamente, se non siete dei collezionisti super patiti, se non avete intenzione di spendere così tanto per avere tutte le altre nette del gioco, 100€ per un set come questo sono assolutamente buttati. Io ho intenzione di collezionare ogni singola carta del trading card game, promozionali, alternate, versioni semi-promozionali, semi-alternate come queste. Qualunque cosa riesca a passarmi per le mani, voglio averla, perché sono un patito di Digimon, perché sono un patito di trading card game e perché sono un collezionista nato. Quindi le tre cose unite mi portano a fare senza problemi, fortunatamente perché posso, una spesa del genere per avere tutte le carte. Se dovete rinunciare a comprare un box per comprare questo, assolutamente no, compratevi un box, divertitevi a sbustarlo, cercate di trovare carte che davvero valgano la pena anche solo di essere giocate piuttosto che delle versioni alternative di carte che trovate dentro ai mazzi in quattro copie che potete giocare tranquillamente. Non ne vale la pena dal punto di vista economico, ne vale la pena dal punto di vista del collezionismo e quindi lì sta a voi capire che tipo di persona siete, che tipo di giocatore siete, che tipo di collezionista siete. Il set è molto bello, ma di nuovo, 100 euro sono davvero tanti. Però guys, per oggi è tutto. Noi ci rivediamo con i Digimon sabato. Ieri ovviamente è saltato tutto per parlare del Pokémon Direct, ma sabato prossimo torniamo ad adentrarci nel meta e iniziamo questo nostro viaggio nel meta effettivo dopo aver visto i mazzi base del Digimon Car Game. Come al solito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like. Se avete qualsiasi commento su questo set, fatemelo sapere qui sotto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando usciranno i video. E noi ragazzi, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.